Benché i motori di ricerca stessero riscuotendo un grande successo, si stavano trasformando in qualcosa di diverso da ciò che erano all'inizio. Concentrandosi sull'ostentazione, avevano perso di vista quello che in passato aveva richiamato gli utenti, cioè la necessità di trovare informazioni in web in continua espansione. In altre parole, i motori di ricerca smisero di occuparsi di ricerca. In sostanza, nel posizionamento di informazioni rilevanti sul web, Yahoo, Excite e altri cosiddetti motori di ricerca lasciavano francamente a desiderare. Passare anche un'intera giornata a digitare svariate combinazioni di parole per trovare quello che si cercava non portava a niente. I risultati erano per lo più link a siti che cercavano di vendere prodotti indesiderati e fin troppo spesso spazzatura. Ci voleva un modo migliore per fare ricerca nel web. Questo venne dalla stessa identica fucina che aveva creato Yahoo ed Excite, Stanford. E anche questa volta il nome della società era immancabilmente buffo, Google. Una storpiatura della parola Gogol, termine matematico che indica il numero 10 e la centesima potenza. E anche questa volta i fondatori erano due giovani tecnomani, Larry Page e Sergey Brin. I ragazzi si conobbero nel 96 durante una visita guidata a San Francisco per futuri studenti di Stanford. A condurre la visita era Sergey, un ragazzo americano di origini russe e di bell'aspetto un po' arrogante. Avrà avuto molto giovane, era uno dei nostri dottorandi più giovani. Era piuttosto laconico, il tipo di persona che ha sempre la risposta pronta. Me l'ha fatto un po' a modo suo. Larry era uno dei nuovi studenti presenti quel giorno alla visita guidata. un pallido ragazzo del Midwest, figlio di un docente universitario, che si vantava di aver costruito una stampante a getto con le costruzioni. Era un ragazzo molto umile, molto tranquillo. Non era un tipo aggressivo. Era molto simpatico. E fu proprio Larry ad avere l'intuizione geniale e a creare Google, trasformando la ricerca in qualcosa di magico. Date le enormi conseguenze sociali, culturali e naturalmente finanziarie di questa intuizione, potreste pensare che ci fosse sotto qualcosa di molto complicato. In realtà, l'idea di partenza era semplice. La sua intuizione partiva dal fatto che il web era costantemente coinvolto in una gara di popolarità sul suo stesso contenuto e che il numero di volte che una pagina web era citata da altri siti attraverso un link ne indicava l'utilità o la rilevanza. Page era convinto che un link da un sito a un altro era una sorta di raccomandazione e con Breen costruì il motore di ricerca di Google, come affermano in una pubblicazione accademica ormai famosa del 98. In breve, Google interpreta un collegamento dalla pagina A alla pagina B come un voto espresso dalla pagina A sulla pagina B. Google misura l'importanza di una pagina dai voti che riceve. In altre parole, quando si è cliccato 15 milioni di volte sul link a un sito su Abramo Lincoln, significa che un numero molto elevato di persone l'ha trovato utile. Mentre un altro sito sul cui link si è cliccato 11 volte non ha quasi attirato attenzione. Questa scoperta portò Page e Breen a creare una versione personalizzata del diktat Seguiamo il denaro. Per trovare i siti più rilevanti bisognava contare i link. L'intuizione di Larry sul conteggio dei link era semplice ma geniale e sarebbe diventata la chiave dello straordinario successo di Google. Ma Larry l'aveva capito? Neanche per sogno. Il primo a vedere Google in azione fu uno dei professori di scienze informatiche dei ragazzi, Hector Garcia Molina. Eravamo nel mio ufficio a guardare i conteggi dei link, cioè il numero dei siti interessanti da cui era stato cliccato il link al nostro sito. Aprimmo la home page di Stanford e la paragonammo a quella di altre università nostre concorrenti, come l'MIT o Berkeley. Ci divertimmo molto a vedere quali di questi siti era più rilevante degli altri perché citato più volte. Quando Larry e Sergey lanciarono Google sul sito di Stanford, tutti capirono che era qualcosa di speciale. Finalmente un motore di ricerca tornava a occuparsi di ricerca. Dal loro piccolo ufficio nel campus di Stanford, Page e Breen cercavano di gestire la popolarità incontrollata della loro straordinaria innovazione. Il traffico su Google era tale che per poco non mise in ginocchio l'intera rete informatica dell'università di Stanford, così la direzione di sei ragazzi di lasciare il campus. L'attuale valore di mercato di Google, pari a più di 200 miliardi di dollari, il suo enorme campus nella Silicon Valley e l'influenza che ha sulla cultura, fanno pensare che gli investitori non vedessero l'ora di scendere in campo, specialmente nel pieno del boom delle dot com, quando alcune delle idee più stupide vennero innaffiate di quattrini. Tuttavia la reazione degli investitori non fu bella trovata, ma piuttosto, santo cielo, non sarà un altro motore di ricerca. Una delle poche voci fuori dal coro degli scettici fu quella di Vinod Kosla, un venture capitalista di grande successo, un guru della tecnologia e cofondatore della Sun Microsystems. Li conobbi e mi piacquero subito. Dissi che mi sarebbe piaciuto lavorare con loro, così gli parlai di Excite, descrivendolo come un motore di ricerca meraviglioso. Per Kosla il meccanismo era semplice. All'epoca aveva investito nel motore di ricerca Excite e pensò che se Excite avesse acquistato o concesso la licenza a Google, questo avrebbe rappresentato un vantaggio sul loro più accanito rivale, Yahoo, che fino ad allora aveva avuto la meglio in ogni battaglia e neutralizzato ogni avversario nella guerra dei portali. Se Excite avesse resistito l'attacco di Young e Filo, avrebbe avuto bisogno di nuove munizioni. Come direbbe qualunque capo militare, la guerra si vince con le alleanze giuste. Nella speranza che Excite si unisse a Google, Kosla fece incontrare in un ristorante giapponese Graham Spencer, chief technologist di Excite, con Larry e Sergey. Il ristorante era grande e sul retro c'erano delle salette private. Il team di Google era già lì. Il tavolo era molto basso ed erano tutti seduti per terra. Ci togliemmo le scarpe, ci sedemmo e cominciamo a parlare di ricerca. I ragazzi di Google speravano di procurarsi un'ancora di salvezza per il loro progetto. Avevano preparato una demo per dimostrare la superiorità dei loro risultati rispetto a quelli di Excite e li mostrarono a Spencer. La tecnologia di Google era impressionante e i risultati che ci mostrarono erano buoni. Ero decisamente interessato. Spencer parlò della tecnologia di Google all'amministratore delegato di Excite, George Bell. E così fece Kosla. C'era molta reticenza. Erano convinti che la ricerca fosse una cosa generica, che noi fossimo quasi al loro stesso livello. Non era una questione di soldi, perché Google all'epoca costava poco. Avremmo potuto comprarlo per un milione di dollari. Oggi vale 100 miliardi. Stop! Ho capito bene. Excite poteva comprare Google per un milione di dollari? Una bazzecola per la Silicon Valley. L'azienda aveva appena voltato le spalle al più grande affare di tutti i tempi. Col seno di poi sono il primo a dire che sono stato uno stupido. Ma a quel tempo chi immaginava che si potesse fare fortuna con la ricerca? Magari ci si poteva fare qualche soldo, ma nessuno pensava che sarebbe diventata una miniera. Siamo onesti, la ricerca è una miniera d'oro. È una miniera d'oro. Sono stati derivanti dalla vendita di uno start-up a San Francisco. Lavoravo con Andy Bechtolsheim, un noto investitore della Silicon Valley. David mi chiamò e mi disse che dovevo assolutamente conoscere i ragazzi di Google. Così sono andato a casa sua. Era una bella mattina d'estate. Larry e Sergei erano disperati. Sapevano di avere tra le mani qualcosa di grosso, ma i presunti esperti di ricerca, alcune delle aziende più quotate della Silicon Valley, non la pensavano così. Se anche David Sheraton e Andy Bechtolsheim non avessero colto il potenziale di Google, probabilmente i ragazzi sarebbero tornati sui libri. Larry arrivò per primo, seguito da Sergei. Poi arrivò Andy sulla sua Porsche rombante. Quando arrivai da David, Larry e Sergei erano già lì e mi mostrarono subito una demo. Abbiamo incontrato quel tipo che doveva dare un'occhiata al nostro motore di ricerca. Ci abbiamo chiacchierato. Gli mostrarono il funzionamento di Google, dell'opzione mi sento fortunato e tutto il resto. Capì immediatamente che l'idea era molto valida. Andy si convinse subito. È l'idea migliore che abbia visto in vita mia. Ci ha detto, non intendo sottovalutarvi e non voglio che abbiate problemi di soldi. Quindi che ne dite se vi firmo un assegno? Corsi in macchina a prendere il libretto degli assegni e gliene firmai uno. Ha preso il libretto degli assegni e ne ha firmato uno da 100.000 dollari. A Google un assegno di 100.000 dollari. Credo sia stato Sergei a dire non abbiamo neanche il conto in banca. Andy rispose, beh, versateli quando lo avrete. Non mi era mai successo a distaccare un assegno così su due piedi. Quella fu l'unica volta. Pensateci bene. Quanti sarebbero disposti a firmare su due piedi un assegno di 100.000 dollari a favore di due goffi laureanti? Anche per un miliardario come Andy Bechtolsheim era un gesto un po' arrischiato. Ma è così che funziona nella Silicon Valley. È per questo che si chiamano Angeli, gli investitori della prima ora. Il loro mestiere è rendere possibile piccoli miracoli. Andy doveva fidarsi molto, visto che non temeva che i ragazzi scappassero in Messico con i suoi soldi. Ricordo che se ne andarono entusiasti e convinti che potessero davvero farcela. All'investimento di Bechtolsheim seguirono segni di una manciata di altri Angeli per un totale di un milione di dollari. Per due studenti che vivevano di fast food un milione di dollari erano una bella cifra. Ma Larry e Sergey scoprirono presto che era una bazzecola nel pieno boom della Silicon Valley. Questo Clark Kent dal fisico asciutto è John Doer, il venture capitalist più famoso e potente della Silicon Valley. Ha finanziato Sun, Compaq, Netscape e Amazon. Tutto ciò che tocca diventa oro. Era inevitabile che prima o poi Jerry e Sergey avrebbero bussato alla sua porta. Erano convinti che quello della ricerca fosse un grande business e che sarebbe cresciuto esponenzialmente. Io gli chiesi sì, ma quanto grande? Larry Page rispose serio, beh, 10 miliardi. 10 miliardi, dissi io, vorrei dire un miliardo. E parli del valore dell'azienda. e lui rispose no, dico 10 miliardi di ricavi. Mi mancò la terra sotto i piedi. Sapevo che erano due imprenditori molto ambiziosi e lungimiranti, ma non immaginavo certo che Google avrebbe avuto ricavi per 6 miliardi di dollari l'anno scorso e 10 miliardi quest'anno. E la crescita non accenna a diminuire. Addestare l'interesse di Doher non erano solo le ambizioni smisurate. Quelle di Page e Brin avrebbero fatto arrossire qualunque comune mortale. Quei due volevano letteralmente riorganizzare tutte le informazioni del mondo, renderle disponibili e universalmente accessibili. Niente meno. Così, dopo essersi ripreso, Doher consentì a firmare ai ragazzi un assegno di oltre 12 milioni di dollari. La stessa cifra investita da Mike Moritz di Sequoia. Entrambi i venture capitalist videro in Google una grandissima occasione. Ciò non toglie che fossero un pochino nervosi. Eravamo consapevoli di aver investito una cifra esorbitante nell'azienda. E probabilmente tutti e due tirammo dei respiri profondi quando ci rendemmo conto di ciò che avevamo fatto. All'inizio del 99 ricevetti una telefonata da John Doher. Mi volevano il suo ufficio per mostrarmi qualcosa. Non sapevo cosa avesse in mente. Ma quando John Doher chiama bisogna andare. Doher mi fece sedere alla sua scrivania e mi disse che aveva investito in un nuovo start-up. Un motore di ricerca. Poi si mise al computer e mi mostrò un sito di cui non avevo mai sentito parlare. Google.com La differenza era sorprendente quanto lo era la semplicità disarmante di Google. E i risultati della ricerca erano estremamente pertinenti. Dissi a Doher accidenti, è impressionante. Ma non vedo annunci pubblicitari o cose del genere. Dove trovano i soldi? Doher rispose questi ragazzi stanno risolvendo il problema più complesso di internet. Se non capiamo come far rendere questa attività sarà meglio fare i bagagli. Ma trovare il modo per trasformare Google in un affare redditizio non era cosa facile. Passavano i giorni e i mesi senza una strategia aziendale e i venture capitalist diventavano sempre più inquieti. chiunque avesse a che fare con Google non aveva capitali. Non c'era mobilità di capitali e i fondatori dovevano assumere personale pagare i collaboratori acquistare le strutture per ospitare la loro attività e per farlo servivano soldi. Ogni mese le casse di Google si alleggerivano di mezzo milione di dollari. Di questo passo i 25 milioni depositati in banca non sarebbero durati a lungo. La soluzione più ovvia era quella di seguire le orme di Yahoo ed Excite e cioè inserire nel sito annunci pubblicitari. Ma con una delle loro più sofferte e lungimiranti decisioni Page e Brin si rifiutarono di seguire la via più facile. Non tolleravano l'idea che Google si trasformasse in un ennesimo caotico portale. Larry, Sergey e il loro staff erano allergici ai siti tappezzati di banner pop-up lampeggianti e altre cose di questo genere che non portavano alcun beneficio all'utente. Per loro la gente doveva vivere un'esperienza fantastica e anche gli annunci pubblicitari dovevano avere un senso. Page e Brin non erano contrari alla pubblicità to cure ma volevano che rispecchiasse l'utente e che fosse organizzata meglio ma non sapevano come fare. Intanto i soldi stavano per finire e così con una mossa controversa trovarono la soluzione al loro problema alla maniera della Silicon Valley cioè copiando da qualcun altro. Quel qualcuno era Bill Gross. Vivendo a Los Angeles Bill Gross non aveva niente a che fare con Google. Gestiva una piccola azienda di nome Idea Lab incubatore di innovazioni e start-up di alta tecnologia. Fu proprio Gross a risolvere l'enigma della pubblicità online e a offrire indirettamente a Google la sua salvezza. Passo la vita a individuare problemi e a cercare di risolverli se la tecnologia mi può aiutare a farlo. Nella sua carriera Gross si era cimentato in ogni settore dai robot ai pannelli solari ma negli ultimi anni 90 la sua ossessione era la pubblicità online. Vedendo che tutte le aziende cercavano un modo per rendere più efficace alla pubblicità mi chiesi cosa non funzionava nel modo in cui compravamo la pubblicità e come avremmo voluto che fosse. A posteriori l'intuizione di Gross fu semplice ma geniale come quella avuta da Page sul conteggio dei link. Partiva dal presupposto che quando qualcuno digitava una parola non solo diceva al mondo cosa gli interessava ma spesso anche cosa gli interessava comprare. Se digito le parole Bob Dylan come minimo sto dicendo che voglio sapere qualcosa di lui ma forse anche che voglio comprare il suo nuovo album. Ora prendete questa informazione e i nomi di tutti gli altri musicisti che mi è capitato di digitare in Google e avrete subito un'immagine dei miei gusti musicali un'immagine molto preziosa per il mercato. Bill Gross prima di chiunque altro ebbe questa intuizione e cioè che un motore di ricerca poteva essere lo strumento più efficace del mondo per le ricerche di mercato. In gergo tecnico i termini che si digitano in un motore di ricerca si chiamano parole chiave e Gross si rese conto che potevano valere una fortuna. Le parole chiave erano il futuro di questo settore. Quando una persona digita una parola chiave nel motore di ricerca si apre un'enorme finestra sulle sue intenzioni in quel momento. Se ne digita più di una diventano straordinariamente preziosi. Gross era convinto di poter vendere le parole chiave agli inserzionisti. La BMW avrebbe pagato una fortuna per assicurarsi che ogni volta che qualcuno digitava la parola auto sarebbe apparso un link al suo sito fra i primi risultati della ricerca. Ma anche nell'entourage di Gross l'idea di pagare per il posizionamento sembrava grossolana e riprovevole. Per qualcuno era persino di cattivo gusto. Altri dicevano che non avrebbe mai funzionato. Io dissi pensateci è così che funzionano le pagine gialle guardate quanto sono utili. Corsi in ufficio afferrai le pagine gialle tornai alla riunione aprì una pagina a caso e dissi questi sono tutti annunci pagati è proprio questo che il cliente vuole vedere quando cerca un idraulico perché non dovrebbe funzionare per un motore di ricerca. E infatti si rivela una grande idea. Gross riuscì a persuadere gli scettici della sua azienda e nel 1998 creò un sito basato su parole chiave e link sponsorizzati che sarebbe diventato famoso come overture. Il successo fu immediato. L'amministratore delegato mi disse stiamo gestendo miliardi di microtransazioni superiamo la compagnia telefonica per numero di transazioni era davvero incredibile allora capì che era veramente qualcosa di forte. Ma Gross non sapeva che nella Silicon Valley qualcuno stava osservando le sue mosse e che Google avrebbe visto nella sua idea la soluzione al dilemma sulla strategia aziendale. Larry e Sergei visitarono un piccolo sito che stava sperimentando una discreta crescita grazie ai link sponsorizzati. Era quello di overture. Credo sia stato Larry a capire che quello era l'esempio da seguire nella strategia aziendale di Google. I ragazzi di Google incontrarono Gross in varie occasioni. la storia di questo settore è spesso determinata da riunioni a porte chiuse fra aspiranti titani. Incontrai Larry e Sergei e cercammo di capire come mettere insieme la strabiliante visibilità di GoTo e l'incredibile pertinenza dei risultati di ricerca di Google. Parlammo spesso di come integrare questi due elementi. A volte da riunioni come queste le parti escono a braccetto altre volte no. Fu questo il caso di Google e overture. Trapelarono notizie confuse ma i contorni erano piuttosto netti. Larry e Sergei lasciarono la riunione senza aver concluso accordi. Poco tempo dopo Google lanciò un servizio chiamato AdWords stranamente simile a quello di overture. Suona sospetto? Potete scommetterci? Gross denunciò Google per quella propria azione sospetta ma le parti si riconciliarono conciliarono in via informale e Gross fu ben felice di ottenere una bella fetta del patrimonio azionario di Google. Era un valore aggiunto ma non pensavamo che l'impatto sarebbe stato così forte e che sarebbe diventato un modello economico così valido. Google rivisitò l'idea di Gross in molti modi. In primo luogo separò gli annunci dai cosiddetti risultati organici della ricerca. Guardate la pagina di Google che ormai ci è così familiare. Questa è la casella bianca dove si digita la parola da cercare. Qui ci sono i risultati naturali generati dall'algoritmo di rilevanza di Google e qui in alto a destra ci sono gli annunci link sponsorizzati di colore blu che le aziende hanno pagato e grazie ai quali negli ultimi anni Google ha realizzato miliardi di utile. Questo beneficiava non solo gli utenti che evitavano di districarsi in siti che ricordavano la 42esima strada o Times Square all'ora di punta ma anche gli inserzionisti che avrebbero visto aumentare il loro volume di affari fu un'intuizione meravigliosa geniale fenomenale incredibile all'alba del terzo millennio Google non aveva solo spianato la strada per il suo successo commerciale ma aveva anche gettato le vasi per il decollo degli annunci pubblicitari a caratteri cubitali d'un tratto con AdWords e servizi analoghi offerti da Microsoft e Yahoo chiunque avesse voluto vendere i propri prodotti online Toyota Citibank o un venditore di tappeti aveva a disposizione un mezzo di provata efficacia per accedere al mercato globale nasceva così la Internet Economy e Google era uno dei suoi attori principali il 19 agosto 2004 Google è stato quotato in borsa le sue azioni sono state scambiate sul mercato dei titoli tecnologici il Nasdaq nei cinque anni precedenti i ricavi avevano raggiunto i 3 miliardi di dollari l'anno e Google era diventata una parola di uso comune l'offerta pubblica iniziale ha innescato una spirale di speculazioni e pronostici specie fra quelli che speravano che avrebbe rimesso in moto un settore tecnologico ancora in ambasce dai tempi del crack delle dot com nella Silicon Valley capitava spesso di vedere un adesivo con la scritta per favore dateci un'altra bolla ma il modo in cui Google ha condotto la sua offerta ha destato l'ira di molti e in quel fatidico giorno si è cominciato a parlare di catastrofe annunciata quella mattina ero in una sala a riunioni dove c'era un televisore la CNBC stava trasmettendo un dibattito sul terribile fallimento che avrebbe avuto l'offerta sul suo improbabile successo la controversia sul lipo è sorta dal fatto che Google aveva scelto un modo non convenzionale di vendere le sue azioni generando ostilità a Wall Street che traeva grossi vantaggi dal modo convenzionale di condurre gli affari il balletto di Google per destare l'interesse nei confronti del lipo gli è costato pessime critiche da parte della comunità finanziaria i dirigenti dell'azienda si sono guadagnati la fama di persone arroganti e poco concilianti i media della finanza non facevano che parlare dell'IPO di Google e molte lobby potenti di Wall Street ritenevano che quello non fosse il modo giusto di condurre le offerte pubbliche in quella sala conferenze nella Nasdaq Tower di Times Square c'era la crema di Wall Street c'eravamo anche io John Doer Eric Schmitz e Larry Page la tensione si tagliava col coltello si è allentata solo quando Larry ha affondato il suo fondoschiena miliardario in un piattone di panna era surreale c'era un enorme tabellone pieno di scritte e numeri sembrava che l'economia mondiale scorresse davanti agli occhi poi Larry e Derek sono saliti sul palco c'era molta attesa per l'apertura dei mercati e poi si sono aperte le danze il primo titolo è stato scambiato a 100 dollari 15 in più rispetto al giorno prima e non è mai sceso sotto quella cifra nonostante la prensione l'ipo di Google è stato un successo chi ha acquistato azioni quel giorno ed è così furbo o fortunato ad averle ancora si è fatto un bel gruzzolo tre anni dopo l'offerta il valore di Google superava quello di FedEx McDonald's Coke Intel IBM e Walmart le azioni scambiate a 100 dollari erano salite quasi a 700 oggi Bring e Page sono fra le 30 persone più ricche del mondo Google è l'azienda che cresce più velocemente al mondo nonostante la loro azienda sia fra le 500 più ricche d'America i fondatori si sono sempre prodigati per evitare che fosse percepita come un famelico avvoltoio come accadde a Microsoft nei suoi anni d'oro il loro motto aziendale ostentatamente altruistico è non essere cattivo il campus rispecchia lo stile dell'era delle dot com mensa gratuita poltrone comode e scooter elettrici al di là di tutti questi comfort Google resta una macchina capitalistica dall'ingranaggio perfetto che continua a prosperare grazie al connubio fra ricerca e pubblicità che l'azienda ha perfezionato prima che la pubblicità online dimostrasse la sua efficacia non potevamo pagare i programmatori che creavano i software ricevevano sussidi magari vendevamo a Sun sistemi o hardware e usavamo quel denaro per pagare i programmatori oggi le aziende collegate a internet possono pagare i loro programmatori con i proventi della pubblicità di conseguenza sviluppo della tecnologia e pubblicità vanno di pari passo ma Google non sta facendo dietro fronte non ha diluito il suo core business non dorme sugli allori al contrario sa benissimo che nel settore tecnologico stare fermi equivale al suicidio commerciale Google ha investito i suoi profitti esorbitanti in innumerevoli esperimenti e progetti affondando il dito in qualunque torta la sua portata Google Library Google Books Google Maps e Google Earth c'è Gmail Google Calendar Google Spreadsheet e Google Documenti l'azienda ha comprato l'impresa Startup Blogger per il Personal Web Publishing ha acquistato l'impresa Startup Picasa per la condivisione di foto online e naturalmente YouTube per la condivisione di video online per molti tutto fa parte di un piano egemonico quindi non deve sorprendere che la Google Mania stia gradualmente lasciando il posto a una strisciante Google Fobia chi soffre maggiormente di Google Fobia sono incrociati della privacy preoccupati dalla grande quantità di informazioni conservate nei database di Google ma non si tratta solo di civili libertari perfino i primi mentori di Paige e Breen sono preoccupati la gente comincerà a pensare che l'esistenza di quell'enorme quantità di informazioni su tutto ciò che ha fatto e cercato sia un serio pericolo ci saranno dei conflitti è già accaduto nel 2006 quando il Ministero della Giustizia ha disposto il sequestro dell'intero archivio di Google e di altre 35 aziende Google si è opposto praticamente il governo stava tentando di avere una copia dell'archivio di Google per i suoi scopi per altri l'egemonia consolidata di Google e la sua espansione incontrastata è una chiamata alle armi Excite non esiste più Yahoo ha perfezionato l'offerta in termini di ricerca e pubblicità un altro nemico giurato di Google è Microsoft un'azienda nota per non darsi mai per vinta per entrare in gioco a fine partita e vincere se si profilasse una grande occasione legata a internet e ai software Microsoft la coglierebbe all'istante il suo staff vanta elementi davvero brillanti la sua forza e le sue risorse sono enormi mentre Google invadeva ogni angolo del mondo del commercio la lista dei suoi nemici al di fuori del settore tecnologico si allungava inesorabilmente la Viacom la News Corporation di Rupert Murdoch l'editoria e ben presto l'intero settore delle telecomunicazioni su Google incombono colossi che lo metteranno alla prova in sfide più dure di quelle affrontate finora per non arrestare la sua crescita strabiliante Larry Sergei e il loro staff dovranno essere versatili innovativi e sempre più creativi la storia dell'hightech ci insegna che anche per l'azienda più solida finiscono i tempi d'oro a Google non è ancora successo ma sarà inevitabile Google si è spinto più lontano e più velocemente di qualsiasi altra azienda ma la battaglia più difficile e la vera prova deve ancora venire Grazie a tutti.